Ancora di più oggi, in uno scenario post-pandemico, il contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria rappresenta un'attività di rilevanza assoluta per la Guardia di Finanza del Veneto e del Triveneto. A Venezia, il 247esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza è stata occasione per tracciare un bilancio del 2020, dei risultati conseguiti e delle nuove sfide. Quello che ci preoccupa è il fenomeno delle attività che si succedono in modo frenetico sul piano formale attraverso questo sistema delle partite IVA apri e chiudi, associate con l'utilizzo massivo e sistematico delle fatture false, che consentono ad organizzazioni criminali di inserirsi fondamentalmente in tutti quanti i settori dell'economia. Il valore del riciclaggio accertato dalla Guardia di Finanza nel 2020 in Veneto è di quasi 193 milioni di euro, attraverso 57 indagini che hanno portato a 242 denunce per riciclaggio e autoriciclaggio. In una realtà così dinamica, in un'economia così evoluta e soprattutto in un'economia a ciclo così breve come può essere il turismo a Venezia, il rischio c'è, esiste e noi siamo indotti a fare tutto il possibile per cercare di contrastare questo fenomeno. Nel 2020 la Guardia di Finanza del Veneto ha eseguito quasi 30.000 interventi ispettivi e più di 3.000 indagini. Il riscontro di 800 reati fiscali è portato a 1.200 denunce e 18 arresti. Il nord-est è la porta di accesso di importanti volumi di traffico commerciale e di affari con l'est Europa e attraverso l'est Europa anche con l'Oriente. Oltre ai confini geografici esistono però altri confini che vanno monitorati. Certe organizzazioni criminali di matrice straniera trasferiscono centinaia di milioni di euro al di fuori del nostro territorio senza far neppure transitare un centesimo di questi soldi attraverso le banche o meglio attraverso il sistema finanziario nazionale ed europeo.